Benvenuti alla rubrica delle ricette della salute. Oggi vi presenteremo una ricetta molto nutrizionale e molto gustosa. Vi presentiamo lo sgombro cotto in sottovuoto con dei legumi, pomodoro confit e cipolla di tropea. Perché questo piatto fa bene? Ve lo spieghiamo subito. In questo piatto troviamo molte fibre ricavate dai ceci, come anche la vitamina E. Quindi in questo piatto troviamo fibra come mangiare 4 insalate. La fibra è un alimento fondamentale per la nostra nutrizione perché ci permette di ottimizzare i grassi, quindi si riduce il loro assorbimento, grazie alla fibra che è un probiotico. Troviamo omega 3, quindi fondamentale per noi, e proteine nobili. Abbiamo come guarnizione dello smarino, della cipolla rossa che contiene quindi altociane e un pomodoro confit. Vediamo come preparare questo piatto. Abbiamo eseguito una cottura in sottovuoto per quanto riguarda il pesce, quindi lo sgombro, viene cotto a 60 gradi per 12 minuti. Una volta cotto viene adagiato su una crema di ceci, precedentemente ammollati e cotti. Una cortenza, un piccolo trucco per quanto riguarda i ceci, vi consiglio di metterli a bagno con acqua fredda e poche gocce di limone. Per una notte, la mattina basta sciacquare i ceci e far ripartire la cottura con pochissimo fondo di cipolla, sale e brodo vegetale. A cottura ultimata li frulliamo e ci teniamo da parte un cucchiaino di ceci per la guarnizione. Il piatto è molto semplice, gustoso e ricco di benessere. Grazie per la visione! Grazie per la visione!